Il sottosegretario per il ministero dello sviluppo economico Alessia Morani ha fatto visita allo stabilimento ex Lucchini a Piombino insieme al presidente della regione toscana Enrico Rossi. Nel suo incontro con la stampa il sottosegretario ha parlato dell'impegno degli accordi che sono in corso con l'azienda, con la GSV e anche dell'impegno da parte dello Stato. Questo alcuni giorni prima di un prossimo incontro che si svolgerà appunto il 12 giugno con la stessa azienda, ma ascoltiamola. Allora, intanto la presenza del governo qui a Piombino testimonia quanto per noi è importante questo stabilimento, quanto per noi è importante ritornare qua ad una piena occupazione, soprattutto ritornare a produrre come si faceva un tempo. Per cui l'impegno da parte del governo è massimo su questa vertenza. Oggi abbiamo fatto un giro dello stabilimento importante perché ci siamo così resi conto con i nostri occhi qual è la situazione dello stabilimento e quanto servono investimenti su questo stabilimento. Certo che la mole di risorse già stanziate dal governo insieme alla regione, che siamo attorno ai 100 milioni di euro, danno anche la dimensione di quanto per noi sia assolutamente strategico questo sito. Ci aspettiamo però da parte della proprietà, e così è stato nell'ultimo incontro fatto con Gindal, un impegno preciso su Piombino. Ci verrà presentato un piano industriale entro qualche giorno, ci aspettiamo dal piano industriale quelle che sono le prospettive future di questo stabilimento industriale, ci aspettiamo perciò dalla proprietà che vengano confermati gli investimenti sia sul laminatoio ma soprattutto su quello che è il forno elettrico, quindi la prospettiva futura. Sappiamo anche che la proprietà è impegnata in questo momento così complicato perché non nascondiamoci che i problemi dell'acciaio erano già complessi prima della crisi del coronavirus. Con la crisi del coronavirus tutto si è aggravato. Però ho anche detto ai sindacati che abbiamo incontrato insieme al presidente Rossi e al consigliere Anselmi che dentro questa crisi per Piombino c'è anche una grande opportunità. C'è una grande opportunità che significa per il governo un impegno anche ulteriore rispetto a quello che abbiamo già assicurato e questo impegno passa attraverso le garanzie per la liquidità che ci sono state richieste dall'azienda, così pure della possibilità di un ingresso di cassa, depositi e prestiti. Sapete anche che da parte del ministro Patonelli è stato annunciato un piano nazionale sull'acciaio. Piombino è parte assolutamente strategica di questo piano nazionale. C'è da prendere nota del fatto che in questi dieci anni in cui mi sono occupato di Piombino è la prima volta che a Piombino un esponente del governo, a seconda anzi, un esponente del governo viene, fa una visita, si impegna, ascolta e cerca di capire fino in fondo la situazione e questo fa francamente piacere e fa sperare bene per il futuro.